Nella giornata di ieri l'Enoteca Vettoretti ha voluto dare un segno concreto per smuovere le acque per una situazione che per voi esercenti è diventata impossibile da sostenere. Certo non si può aspettare dei ristori che non ci sono e continuare a tenere chiusi i locali. Chiaramente devi rispettare tutte le norme sugli assembramenti, sui distanziamenti perché comunque il virus sta mettendo delle vittime, ma il motivo per cui abbiamo deciso di aprire ieri è perché c'era una manifestazione a livello nazionale e quindi riteniamo giusto come gli operai scendono in piazza quando qualcosa contratualmente non va, noi non possiamo scendere in piazza perché creiamo degli assembramenti e quindi agevoliamo la diffusione del virus. L'unica cosa che possiamo fare è aprire perché non è che abbiamo incassato ma abbiamo tenuto aperto, dare il segnale che noi c'eravamo perché abbiamo il diritto di manifestare. Qualcuno è rimasto seduto, si è seduto qui, ha mangiato qui, a pranzo, a cena, com'è andata? No, noi non apriamo a pranzo, noi apriamo solo alle 5, 5 e mezza, quindi sai che chiudere alle 6 era impossibile se apri alle 5, 5 e mezza, hanno bevuto un prosecco o uno spritz e poi ovviamente sono andati via, volevano solo essere solidali con me e io volevo essere solidali con queste persone che sono più in difficoltà di noi. Perché dobbiamo far presente a un governo che non sta facendo nulla, perché non sta facendo nulla, sembra solo che ci sia il Ministero della Sanità e il Ministero dell'Economia dov'è? Perché ci sono sì problemi sanitari ma ci sono anche problemi economici, ci sono persone che si suicidano perché non hanno da mangiare. Per noi l'asporto fa comunque ridere perché come fai ad asportarti uno spritz o un cicchetto? Cioè dove lo metti? È buono caldo? Non è che noi possiamo far panini a robe del genere, noi facevamo bicchieri di prosecco e qualche cicchetto, quindi l'asporto diventa impossibile. Quindi il messaggio finale dall'Enoteca Vettoretti qual è? L'Enoteca Vettoretti vuole far capire che noi abbiamo dei diritti costituzionalmente garantiti che in questo momento vengono compressi da regolamenti che sono illegittimi e incostituzionali, che è giusto che la politica si comporti da politica che è un'arte alta e loro devono governarci in maniera corretta, non improvvisare, non mancare di organizzazione perché la disorganizzazione favorisce il diffondersi del virus e i problemi economici. Se loro si organizzano bene invece di stargli a litigare per delle poltrone stanno al governo e prendono i provvedimenti necessari per rilanciare anche l'economia perché così non si può andare avanti.